Allora ragazzi e qui abbiamo un ben di dio per gli elettronici, due bellissimi osciloscopi e strumentazione elettronica, guardate alimentatori c'è di tutto, qui ci sono i metal detector che distribuiscono le migliori marche, prezzi buoni e allora questi qui sono lo sgombero della ditta della fabbrica di elettronica che io avevo detto a Ciccio lo diamo alla scuola e Ciccio mi ha detto ecco guarda che alla scuola hanno già dismesso i strumenti elettronici che erano più moderni ma molto più moderni di quelli che gli vorresti dare te e allora ho detto a per bacco qui è Stefanone che è rimasto indietro e allora adesso questi qui io li cedo a prezzo buono poi dopo quello che realizzo lo uso da reinvestire da comprare apparecchiature elettroniche strumentazioni e componenti elettronici per fare i video per fare i video da farvi vedere a voi per imparare l'elettronica per fare i test dell'elettronica hai capito come funziona l'elettronica le valvole tutto quanto che un po' alla volta col tempo ci si va dietro facciamo tante belle cose tante bei video e qui cosa abbiamo due computer retro vintage olivetti 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 m e adesso li vedete bene olivetti m 2 90 s questi qui sono computer dell'epoca degli anni 80 introvabili introvabili non si trovano più fate la vostra offerta se l'offerta è discreta il computer è venduto qui cosa abbiamo qui abbiamo un bellissimo carico resistivo dell'hp tutto regolabile programmabile digitale dietro ci sono i due bocchettoni guardate vi faccio vedere anche la sigla e la targhetta così vedete il modello guardate quanto costi in internet fate un'offerta e dopo vediamo se ve lo cedo e qui abbiamo due bellissimi oscilloscopi questo è l'ameg tedesco una delle marche più conosciute di strumentazioni oscilloscopi dell'epoca questo è un doppia traccia ho fatto il video come funziona il corso mini corso di funzionamento di questo bellissimo oscilloscopio fate la vostra offerta se l'offerta è buona stefanone cede l'apparecchiatura e qui c'è addirittura un pantec anche la pantec era molto conosciuta da allora e qui questo oscilloscopio doppia traccia ha la banda un po più larga del passante dell'altro ameg e c'è addirittura il prova componenti fate l'offerta e vediamo se facciamola fare qui abbiamo un bellissimo variac questo variac non è cinese c'è l'interruttore è professionale sopra c'è la maniglia e di dietro c'è un altro ancora di potenza più elevato uguale identico ma più grande di potenza mi sembra che siano cicoslovacchi o slovacchi questi variac qui comunque variac professionali non cinesi fate la vostra offerta qua abbiamo altre bellissime strumentazioni due elementatori visualizzatori di tensione e corrente regolabile tutte e due sono quello nero un 10 ampere di allora 0 a no scusate 0 30 volt 0 5 ampere ma questi sono professionali perché dentro c'è il trasformatore e questi non si mettono a sedere se ci mettete un carico un po più grosso e non avete timore che si bruci il driver dello switching perché questi sono a trasformatore ponte raddrizzatore con la scheda fate la vostra offerta guardate anche già dalla fattezza questo peserà 4 5 kg questo invece un kert un kert anche qui visualizzato con la lancetta è un 20 ampere è un 0 30 volt 20 ampere se uno lavora con l'elettronica di potenza questo è indispensabile e anche questo non è non è uno switching non c'è timore che si bruci il driver o dei trier degli sd o dei mosfet hai capito questo ha il trasformatore corra del fattore con tutta la scheda se succede qualcosa è riparabile ed è professionale fate la vostra offerta che se ci mettiamo d'accordo lo potete venire a ritirare perché a spedire queste apparecchiature sono questo peserà 15 kg sono molto pesanti oppure che si rovinano questo invece è un misuratore di isolamento ad alta tensione mi sembra che faccia 3000 volt a chi interessa fate la vostra offerta qui c'è il tester iscra qua c'è un tester ice e un misuratore di isolamento kiriozu poi c'è il tester ice quello rotto a 25 euro lo cedo per ricambi qui c'è un piccolo alimentatorino forse che fosse di elettronica pratica un kit bellino regolabile questo con 20 euro lo cedo oltre che essere d'epoca è anche utile e facilissimo da usare e qua abbiamo un variac gigante questo peserà proprio se non dico 20 kg ci manca poco questo di potenza gente ha una buona potenza di una una buona corrente di passaggio regolabile anche questo guardate come lungo arriva fino laggiù in fondo sarà lungo mezzo metro un bel variac a chi può interessare fate la vostra offerta e qui abbiamo altri due bellissimi alimentatori abbiamo altri due bellissimi alimentatori chi lì è buio non si vede adesso io ve lo ingrandisco così se vedete meglio nel video e anche questi li cedo e questo è un altro alimentatore kert comportata massima 20 ampere non a switching ma trasformatore bene ragazzi vi ho fatto vedere tutte queste bellissime strumentazioni se vi interessano sappiate qualcuno che possono interessare diteglielo io cerco di trattarvi sempre bene coi prezzi come dico se le vendo i soldini li rinvestisco per prendere componenti elettronici strumentazioni per il laboratorio da fare i video didattici da fare per tutti i componenti elettronici a vedere il funzionamento tutto quanto microprocessori eccetera così hai capito proseguiamo coi video bene allora di nuovo saluto tutti quanti se volete scrivere e chiedere dell'informazione chiedetele nelle descrizioni nei commenti fate vedere i video tutti i vostri amici ciao a tutti